Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Da questa poltrone, con questa inquadratura, con dietro una piccola libreria che sembra un po' il classico nonno che racconta la fiaba al nipotino prima di andare a letto, faccio un video particolare e questo sarà l'unico, l'unico, l'unico vero tutorial al 100% che porterò mai sul mio canale ed è un tutorial su come usare il mio canale e su come interpretare i miei video perché nell'ultimo periodo ho avuto diversi commenti, che poi sono sempre gli stessi, che ho avuto anche, vi ricordate, più di un anno fa, quasi due, quando feci quell'altro video dove parlavo un pochino delle critiche ricevute, questa volta sono state più che critiche sterili come la volta scorsa, sono state critiche motivate, infatti l'ho accettato i commenti e tutto quanto, ho risposto, però questo video lo faccio unicamente con l'idea di linkarlo. Ogni volta che rivedrò un commento del genere non rispondo nemmeno più, gli dico vatti a vedere questo video e metterò il link. Servirà sempre e solo a questo e qualcuno non voglia mai che una volta la metta davvero come trailer al canale. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Diverse volte è capitato di venire un po' additato, soprattutto nell'ultimo periodo, come il canale che riceve giochi a gratis o il canale che va a sponsorizzare e pubblicizzare prodotti scadenti un po' la cacchetta, concedetemi il termine, di giochi che magari non valgono nulla soltanto per averli gratuitamente e per fare pubblicità all'azienda, in questo caso all'editore del prodotto. Allora, una volta per tutte, io l'ho sempre detto e non me ne sono mai nascosto, a differenza di tanti canali che fanno i recensori e poi sono un po' venduti e ce ne sono, io non me ne sono mai nascosto, io non sono un venduto, assolutamente, non l'ho mai fatto quando facevo 30-40 mila visual nei videogiochi, ho chiuso serie perché il gioco non mi piaceva, non lo farò tanto meno ora che non arrivo magari nemmeno a mille, però io non sono un venduto, io sono una persona con l'intento di fare un canale pubblicitario, pubblicitario perché quando abbiamo iniziato questo canale, ormai quasi tre anni fa, ho iniziato questo canale che ero in macchina con mia moglie che andavo verso Viterbo e se era lì che si parlava lei mi diceva, ti hai abbandonato un canale comunque da 80-90 mila iscritti che parla di videogiochi, a me l'argomento videogiochi non interessava più e ho detto, cosa si può fare? Io non avevo più voglia nemmeno di fare i video, e lei ha detto non l'abbandonare perché comunque un potenziale lasciato lì è brutto, capito? Non ci arriva tanta gente o il numero del genere. Io dissi o lo rendiamo un canale pubblicitario, mi venne l'idea e tutto il viaggio per quattro ore di viaggio andate e ritorno siamo stati a parlare di questo progetto. Quindi questo qui è rinato come canale pubblicitario, infatti avete visto che sul canale porto giochi di ruolo, giochi da tavolo, stampe 3D e anche altri progetti che ho in mente, che mi piacerebbe portare su questo canale. Quindi questo è un canale pubblicitario che nasce con l'idea di mettere in contatto l'azienda Coridan, me stesso, io sono imprenditori di me stesso, con gli editori con cui vado a collaborare. Quindi questo è un canale diretto me editore, non è un canale fra me e voi, o meglio perché detto così sembra un po' arrogante e brutto, assolutamente non dovete fraintendere. Però questo non è il canale dove trovate i tutorial e le recensioni accurate da 20 pagine di un gioco, quella è la tana dei Goblin che lo fanno da tanti anni e lo fanno tra l'altro benissimo. Questo non è un canale che ti fa vedere una partita Warhammer passo dopo passo, video di due ore, con tutti i singoli tiri di dado e ti fa vedere. No, questo è un canale che fa dei sunti, delle battaglie che durano 8-10 minuti per farvi dare un po' l'idea. Quindi non è un canale che serve tanto a voi per imparare come giocare, ma è un canale che serve a me per presentare il prodotto che l'azienda mi ha mandato. Quindi è un canale diretto fra me e l'azienda e l'editore. Al che uno giustamente, per fugare ogni dubbio, qualcuno potrebbe dire, e mi è stato detto, ma loro è un canale del genere, a cosa serve? Cioè se lo fai solo per avere il prodotto gratis e per fare pubblicità all'azienda, a me che, cioè guardo il tuo video, ma cosa mi è servito? Guardare il mio video ti serve per capire se quel gioco può fare per te o no, perché io ho tanti giochi sponsorizzati dall'azienda con cui collaboro, ne potrei avere il triplo. Però tante volte mi sono stati consigliati e proposti dei giochi dagli editori, sono andato sul sito e ho detto, guarda, non è un gioco che fa per me, non mi interessa, ma anche perché non sono appunto un venduto, dovrei fare una recensione, poi dopo magari è negativa perché non mi è piaciuto. Quindi tutti i giochi che ho, tutti quelli che vi ho portato sul canale, ma dici sempre sono spettacolari, perché sono spettacolari, perché ho chiesto unicamente i giochi dove mi sono documentato centomila volte prima di andarla a chiedere e quando mi è arrivato, sapevo già, non ho letto nemmeno il regolamento, frappino, perché già conoscevo le regole con tutte quelle che ho visto su YouTube o nel Kickstarter e ho pubblicizzato un prodotto che sapevo che mi sarebbe piaciuto da morire. Quindi era inutile parlarne male perché sapevo già che mi sarebbe piaciuto da morire. Quindi come devi leggere e interpretare il mio canale? Io quando ti presento un prodotto cerco sempre di presentartela a meglio, non ti faccio tutorial perché non me ne frega niente di farti un tutorial, non è nella mia idea di pubblicità, però cerco di darti un po' un'infarinatura sulle regole, cioè devi capire se c'è il tiro di dado o la carta, giustamente prima di comprarlo. Devi capire se è un gioco hardcore, un gioco per neofiti, devi capire magari se dentro ci sono le pedine o i meeple, faccio sempre l'unboxing, quello cerco di farti vedere anche cosa c'è dentro la scatola, perché non voglio che tu compri una cosa che poi dopo magari non ti piacerà. Però sarebbe anche buffo, come sento dire a volte, ma tutti i giochi che c'è sono spettacolari? Sì, perché chiedo soltanto i giochi che a me interessano. Se mi propongono unicorni volanti o come si chiama, ma non lo prendo, perché so che magari non mi piacerà. Prima di prendere un gioco, anche se l'azienda me lo propone, prima di prendere un gioco e dirgli il vostro gioco è cacchetta, fa schifo, gli dico guardate ragazzi, non fa per me. Quindi questo è un canale fatto al 50% per me e al 50% per voi. Io cerco di presentarvi il prodotto, come detto e tutto quanto. Poi, eh ma perché ricevi i giochi gratis? Grazie al piffero che ricevo, che lo faccio anche per questo. Ragazzi, ognuno di questi giochi può valere anche 50, 60, 200 euro, ce ne sono alcuni 150 e lo faccio anche per quello. Sì, cioè la mia passione, posso se riesco ad avere la mia passione gratis a casa, ma c'è qualcosa di male? Se riesco ad avere tutti i giochi della Games Workshop gratis a casa, dovrei dire di no, teneteveli perché li voglio pagare. Dai ragazzi, cioè questa è una cosa che non meriterebbe nemmeno una risposta, giusto? Tutti i recensori su YouTube o anche su Twitch cosa fanno? Si prendano il prodotto e magari vengono anche pagati, cosa che io ribadisco dopo tre anni se arriva, faccio un nome a caso, l'azienda X per non fare i nomi di altri editori con cui collaboro e mi dice ti mando il mio gioco e ti pago 200 euro per il video, io non li prendo quei soldi. So scemo? Sì, so scemo. Perché questo sarebbe il mio lavoro, so scemo, però non li prendo perché a me basta il prodotto. Ovvio, se domani Asmode mi assumesse per diventare il pubblicitario dell'azienda e io diventassi invece che Coridan Giorgio Mastrota di Asmode Italia, non so scemo, è normale che accetterei, però già quando mi mandano il prodotto e devo farci una recensione, per me basta. Qui, oggi e domani con 1000 visual o con 100.000. A me basta avere il prodotto, prodotto che hanno, chi recensisce videogiochi, chi recensisce magari stampanti 3D. ci sono state proposte delle stampanti 3D a cui non ho più nemmeno risposto, ho detto no al produttore perché facevano schifo e non le volevo portare per dirvi una cavolata magari bella, bella, compratela e poi magari la prendevo e me la rivendevo, no, perché sapevo che era un prodotto scadente e magari se l'aveste comprata poi dopo giustamente avresti detto ma Coridan cosa dici? Fa schifo sta stampante 3D è roba a dio buono che non la trovavi nemmeno negli exogeni. Fa schifo e quindi non l'ho fatto come tanti altri giochi da tavolo che a me non piacciono e fanno schifo non ve lo portate sul canale perché era inutile farci una recensione negativa. Poi nel video non c'è scritto recensione non c'è scritto tutorial c'è scritto cosa ne penso cosa ne penso io Andrea Puglia cosa ne penso io Coridan cosa ne penso no cosa ne pensate voi o cosa potreste pensarne cosa ne penso io quindi è una recensione soggettiva di più cioè cos'è dopo soggettivo un'altra parola dopo soggettivo strasoggettivo perché io ti porto un prodotto che mi piace e che ti vada a recensire come spettacolare perché so già che mi piace da morire infatti tutti quanti i miei giochi al 90% sono sempre fateci caso dungeon crawler per la maggior parte perché è il mio genere preferito io non adoro troppo i giochi di carte e non ve li porto più di tanti perché so che due mi garbano gli AT-180 mi fanno schifo e quindi non li porto e se l'editore me li propone non ve li porto perché non voglio farli in recensione negativa mi dispiacerebbe poi riprendendo il discorso delle critiche sterili trovate su facebook quelle lasciano il tempo che trovano tanto a me non mi offendano e anzi fare sto video per me è atipico perché io vedo quello che faccio quello che mia moglie facciamo perché lei con la parte stampanti 3D tutta lei io parte board game per noi siamo un'azienda e un'azienda per come la vedo io inquadrata in un modo del genere non dovrebbe fare i video del genere rispondere alle critiche infatti fateci caso sotto i miei video i commenti sono sempre monitorati e privati sono io che li accetto perché non voglio nemmeno discussioni discussioni giuste si è chiaro qualcuno a volte mi ha chiesto regole di giochi io sono andato al tempo in soffitta a prendermi la scatola aprirla leggermi il regolamento per dargli una mano a questo ragazzo ci mancherebbe però flame non li accetto anche flame motivati anche pizzica qualcosina non li accetto perché per me deve essere la facciata con cui l'azienda propone il proprio oggetto il proprio appunto board game che mette in vendita tramite pubblicità che sponsorizza su vari canali in questo caso anche sul mio io sono un contatto diretto Coridan azienda e nel mezzo ci siete voi non vuol dire che non siate la mia priorità assolutamente però ripeto non sono un recensore non sono la tana dei goblin non vorrevo portare una nuova ventata nel mondo dei board game io sono una vetrina io sono uno spazio pubblicitario per l'azienda ma ribadisco per l'ultima volta vado a recensire soltanto prodotti che a me piacciono da morire se domani mi mandano Mr. X titolo a caso e Mr. X mi fa schifo io non lo porto perché non voglio nemmeno che voi lo compriate e ci buttiate soldi infatti tanta gente che ha comprato prodotti tramite i miei video ma anche ringraziato non è vero che vi porto prodotti che lo faccio perché sono un venduto e tutto quanto no vi porto soltanto e cerco di presentarvele al meglio nel mio stile ognuno c'è il suo e c'ho questo prodotti che mi piacciono da morire ci sono altri recensori che fare senza nomi né niente ricevano a casa limited edition che uno dice se le vai a comprare costano 300 euro no non le trovi nemmeno cioè sono cose che mandano praticamente in tiratura limitata solo a loro e che magari trovi sul mercato a 500 euro da qualche bagarino ma si lamenta qualcuno no è il nostro lavoro quindi se mi viene fornito questo prodotto per farci una pubblicità faccio insomma quello che mi sono prefissato di fare e cerco di dare un servizio eccellente all'azienda ed è anche una sorta di pagamento perché il prodotto che ti mandano a casa ha un valore quindi già per me con quello siamo a posto è come se ti dicessero ti mando a casa ti pago per il video 200 euro però il gioco te lo compri magari il gioco stesso vale 200 euro ad esempio però devi anche sempre essere secondo me onesto in grado di dire di no nel caso il prodotto non ti piace è inutile dire si 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 mandamelo e l'ho visto fare a qualcuno bellissimo poi ci fanno la recensione voto 0 fa schifo e lo rimettano in vendita è lì non mi garbi concludo questa cosa qui dicendo che questo d'orino avanti sarà il video che io linkerò veramente se uno mi scrive qualcosa io prendo e li faccio guarda qui non scrivo nient'altro guarda qui glielo linko guarda qui nient'altro perché questo qui è un canale ragazzi al 529.670,3 senti l'ac percentuale per cento pubblicitario è un canale diretto fra Coridan e l'azienda con Coridan che pubblicizza il prodotto per l'azienda e nel mezzo ci siete anche voi ma siete un passaggio nel mezzo ok la mia colonna e linea diretta è fra me e l'azienda tutto qua quindi questo è un canale pubblicitario più di così io spero che questa volta di essere stato abbastanza chiaro fatemi sapere cosa ne pensate e i commenti quelli che trovo in linea col video che sono anche commenti magari negativi però costruttivi sono sempre apertissimo dovranno avanti linkerò sempre questo video guida a come usare tutorial a come usare il canale di Coridan ciao ragazzi alla prossima